Buongiorno a tutti. Allora, 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 dopo aver scritto per Interlive un po' di cool news. Allora, cool news cinematografica. Una riguarda un film degli anni Ottanta famosissimo, con un attore famosissimo, bravissimo, eccetera, eccetera, ma nello specifico si parla di una delle attrici di questo film che sembrava non dovesse parteciparmi perché, ma lo leggeremo, mi incuriosisco. La seconda riguarda un attore simpaticissimo che faceva da spalla a Jerry Calada, a Batantuono o anche nei film giovanilistici tipo Chewingham, che ha un nome simpaticissimo, eccetera, Yesterday è un altro film che ha fatto, piccolino, non è tanto altro, ecco, è piccolino. E poi, la terza notiziosa riguarda un'attrice che ha fatto un film mitico, negli anni settanta però, metà degli anni settanta, film mitico, 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 bellissimo, eccetera, di cui, ahimè, una delle protagoniste è venuta a mancare pochi mesi fa, non spero non dire la protagonista, no, una delle protagoniste, perché c'era lui e c'era lei. Penso che abbiate capito di chi stiamo parlando. Ma partiamo dalla prima notizia perché nel 1987, quindi 35 anni fa, mamma mia, come passa il tempo, Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer furono protagonisti di Le streghe di Eastwich, una commedia dalle tinte horror fantastiche dirette da George Miller e tratta dall'omonimo romanzo di John Updike. Spero di averlo pronunciato giusto, Updike. Le tre attrici interpretano rispettivamente Alice, Jane e Suki, tre amiche molto diverse tra loro che durante una serata passate insieme a fantasticare sul loro uomo ideale, non sapendo di essere dotate di poteri magici innati, invocano involontariamente il diavolo racchiuso nelle sembianze umane di Daryl Van Horn, Jack Nicholson. E direi che il buon vecchio Jack nella parte del diavoletto è perfetto. Jack Nicholson espressa interesse per il ruolo di Daryl Van Horn dopo aver appreso tramite la sua fidanzata di allora, Angelica Houston, che Bill Murray aveva rifiutato la parte. La stessa Houston era interessata al progetto e fece il provino per il ruolo di Alice, nel quale recitò con Michelle Pfeiffer, che già era stata presa per interpretare Suki, e Amy Madigan, quest'ultima in Lilsa per la parte di Jane. La Houston ammise di aver trovato parecchia difficoltà con i dialoghi e di aver fatto un terribile provino. La parte venne in seguito assegnata a Cher. Ma andiamo a questo aneddoto che forse pochi conoscono, la brutta telefonata di George Miller a Cher. Nel corso di un concerto tenuto ad Atlantic City nel 2018, Cher ha raccontato al pubblico un curioso aneddoto riguardante le streghe di Hitchwich, George Miller e Jack Nicholson. Pochi giorni dopo i festeggiamenti del suo quarantesimo compleanno, nel 1986, Cher ricevette una telefonata a dir poco spiacevole dal regista George Miller. All'epoca l'attrice era in trattativa per interpretare il ruolo di Alessandra Malford nell'adattamento di Le streghe di Hitchwich, potendo contare già su alcune partecipazioni a film di successo, tra cui quella del 1983, in Silkwood, che le valsa anche una nomination come miglior attrice non protagonista ai premi Oscar. Nonostante ciò, il regista la chiamò per dirle che sia lui che Jack Nicholson non ritenevano che fosse all'altezza della parte. Queste le parole dell'attrice, cantante, eccetera, eccetera. Dopo aver partecipato al mio compleanno, andai a dormire, pensando ai miei favolosi quarant'anni. Aveva in agenda già tre film, ero così felice. Queste le sue parole. Poi ha aggiunto La mattina dopo il mio telefono squillò. Era George Miller. Mi disse Volevo chiamarti e dirti che non ti voglio nel mio film. Io e Jack Nicholson pensiamo che ti sia troppo vecchia e poco sexy. Minchia. E non finiva qui, da ciò che raccontò Cher. Il regista era intenzionato a dirle tutto ciò che pensava di lei. Odio come cammini e come parli. Non mi piacciono i tuoi occhi nel colore dei tuoi capelli. Al che Cher non se le mandò a dire e gli rispose E giustamente gli ha fatto un mazzo a tarallo. Il racconto di Cher prosegue così. Ero basita. Gli risposi Ok, FDP. Non mi hai mica trovato dietro l'angolo. Sono stata nominata ai premi Oscar e ho ricevuto il premio del Festival di Cannes come miglioratrice per Musk. Quindi, addio! La relazione di Cher funzionò e infatti venne strutturata per il film. E sapete cosa? Lei e Nicholson finirono per diventare anche amici. Infatti di Jack Nicholson la Cher ha detto o disse come preferite meno male che c'era Jack ha raccontato nel 2013 a CBS quindi possiamo dire disse e non ha detto spiegando come durante le riprese del film lei, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer venivano trattate con molta indifferenza. Ci chiamavano le ragazze a nessuno importava di noi dovevamo essere carine stare in silenzio dire le nostre battute poi fare di nuovo silenzio. Solo Nicholson un giorno venne loro incontro e le coinvolse. Gels si sedette con noi tutta la notte cercò di coinvolgerci e di avere la nostra opinione. Non è così che la diresti questa battuta vero Cher? Cosa ne pensi? Tutte noi fumo più felici in questo modo. La fonte arriva da una delle mie fonti che sapete benissimo sfrutto tantissimo che è Vanity Fair quindi vi dico anche la fonte da dove arriva delle mie notizioni scienze e notizie Vanity Fair cinematograph.it e chi più ne ha più ne metta. Ma veniamo da questi mostri sacri del cinema perché signori miei Michelle Pfeiffer Cher Jack Nicholson e l'altra Susan Sarandon che se non erro ha fatto Tell me Louise se non erro però magari mi confondo poi lo segno ve lo dico sotto se mi confondo forse no forse non era Susan Sarandon no non era Susan Sarandon va beh comunque Susan Sarandon un grande attrice anche lei Michelle Pfeiffer non direi che ve lo dico e Cher e tanta roba anche lei anche se ormai hanno superato gli anta però devono fare le attrice proseguiamo da mostri sacri a piccolino più piccolino ma simpaticissimo star della commedia italiana anni 80 e 90 Maurino di Francesco è sparito dalle scene televisive cinematografiche da parecchi anni nato a Milano il 17 maggio 1951 quindi a 71 anni Di Francesco inizia a recitare sin da ragazzino esordendo a soli 17 anni nello scieneggiato a puntate trasmesso da Rarai La Freccia Nera interpretando il ruolo del giovane Robby quindi La Freccia Nera lui la Goggi eccetera eccetera e hanno iniziato con questo film questo film qua ne ha ne ha tirati fuori di attori negli anni 70 entra a far parte del gruppo repellente gruppo repellente ideato da Enzo Iannacce e Beppe Viola assieme a Diego Abbattantoono Massimo Boldi Giorgio Faletti Giorgio Porcaro ed Ernest Tull Celebri sono le sue partecipazioni a numerose commedie degli anni 80 partendo da Sapore di Mare 2 un anno dopo Chewingham Giochi d'estate Abbronzatissimi 1 e 2 Attela Flagello di Dio e nelle serie tv Yes Errei Vacanze al Mare e Ferragosto Ok Dopo il successo decennale l'attore è sparito per anni dalle scene in seguito a un trappianto di fegato al quale si è dovuto sottoporre a causa di una cirrosi epatica dovuto ad un abuso di alcol Fuori tutte le notti ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55 Faccio un appello a tutti i ragazzi Lasciate perdere l'alcol è peggio della droga Non riducetevi come me Sono un miracolato dopo il trappianto di fegato Ora voglio fare il testimonial dei donatori di organi Rivelò in un'intervista al giornale nel gennaio 2011 il nostro Maurino E poi Credo che qualche personaggio mi abbia voluto tagliare le gambe e abbia cercato in tutti i modi di mettermi in un angolo Raccontò al magazine Spy nell'estate 2017 Oggi scrivo dipingo o alcune attività che mi permettono di vivere dignitosamente perché non potrei campare solo con la pensione Ho proprio deciso di non fare più questo lavoro a meno che non venga uno come Sorrentino ma con una cosa bella un ruolo importante Pensi sono così determinato che ho delle pretese anche su Sorrentino Ha raccontato di Francesco a Il Tempo Come vive questa decisione? E la sua risposta è stata Benissimo Sto con mia moglie e il mio cane Stracci come il robot domestico di Woody Allen e il Dormiglione Mi dà fastidio soltanto leggere sul web Ha smesso perché non lo chiamano più Mi chiamano sono io che dico di no Il fatto è che mi è venuta la nausea o la crisi di rigetto In tv poi si vedono cose improponibili e anche al cinema Comunque nel 2016 il buon Marino ha partecipato al film di Jerry Calat Odissea nell'ospizio che uscirà ufficialmente sulla piattaforma digitale Chili che è uscito ufficialmente scusate è uscito ufficialmente sulla piattaforma digitale Chili il 2 ottobre 2019 Nel cast troviamo anche i componenti dei gatti di Vicolo Miracoli André Roncato e Caterina Kelly Lang La Brooke di Beautiful Quindi chi ha la possibilità di avere chili eccetera eccetera può andare a vedere questo film che ormai è uscito da due anni D'altronde probabilmente non poteva dire di no ai suoi amiconi Jerry Calat è stato spesso lui è stato spesso la spalla di Jerry Calat lo ricordiamo in se non erro i fichissimi i fichissimi in cui gli faceva la spalla e faceva finta di essere quello che parlava americano quando è andato a prendere la la sorella di Abba Tantuono eccetera 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 vabbè salutiamo il buon Maurino e passiamo a Stockard Schenning pseudonimo di Susan Antonia Williams Stockard nata a New York il 13 femmario 1944 che è un'attrice statunitense probabilmente molti di voi non la conosceranno o non l'avranno riconosciuta chi è questa chi è chi è chi è qualcuno che ne sa di cinema l'avrà riconosciuta subito avrà capito subito di chi parla ma arriveremo al momento non ve lo dico subito figlia di Lester Napier Stockard e Mary Alice English suo padre morì quando Stockard aveva 16 anni sua sorella Leslie è diventata sindaco di Palm Beach nel 2000 domination all'Oscar alla miglior attrice per il film 6 gradi di separazione è conosciuta particolarmente per la sua partecipazione al film Grease in cui interpretava il ruolo di Betty Rizzo è stata poi in A Wong Fu grazie di tutto Julie Neumar Luna di Fiele di Roman Poslaski Smoke di Wayne Wong qualcosa di personale il club delle prime mogli amori e incantesimi partner perfetto punto com qui dove batte il cuore eccetera 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 se no non finiamo più in televisione è interpretato Abby Bartlett la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America nella serie tv plurivindicitrice di Emmy Awards West Wing tutti gli uomini del presidente nel 2000 ha avuto una candidatura allo Screen Actors Guild Awards per la migliore interpretazione femminile in un film o miniserie per la tv nel film per la televisione Death Through About Jane del regista Lee Rose nella stagione 2005-2006 è stata protagonista con Henry Winkler il famoso Fonzie di Happy Days della situation comedy Out of Pretis Medici Senza Speranza ha impersonato la moglie del reverendo presbiteriano Allen nell'episodio Il primo bacio della serie televisiva La strada per Avonlea Stockard Channing ha partecipato come comparsa nel telefilm Sabrina vita da strega nel ruolo di se stessa si è sposata quattro volte prima dal 1964 al 1967 con lo scultore Walter Channing Junior poi dal 69 al 76 con il traduttore Paul Smith dal 76 all'80 con lo scrittore David Debbin e dal 1982 al 1988 con l'uomo d'affari David Leffert Rowley non ha mai avuto figli dal 1988 è fidanzata con il fotografo Daniel Gillam e credo che questa storia prosegua tuttora nel 2017 ha suscitato Scalpore una sua intervista in tv visibilmente differente dalla solita Betty e sotto si scatenò l'inferno tutti quelli che l'avevano vista non avevano potuto fare a meno di commentare il suo tracollo non vogliamo infierire assolutamente però c'è da dirlo non è invecchiata benissimo ma che cosa ha fatto alla faccia ha scritto qualcuno scioccato ma perché incasinarsi lineamenti con tutta questa chirurgia ha scritto qualcun altro è probabile che il gonfiore se ne sia andato via nel giro di qualche settimana ma non avremo mai più la vecchia e dolce cara Rizzo beh insomma sulla dolce cara Rizzo non direi proprio perché la Rizzo era tutt'altro che Grohl c'era una donna una ragazza in gris molto molto tosta e molto molto determinata e anche molto molto sicura di sé che non te le mandava a certa dire ti rispondeva papale papale pane pane vino al vino almeno vedendo la parte che ha fatto in gris di Rizzo chi era dolce era l'altra ragazza quella che gli erano venuti i capelli rosa eccetera chi era dolce era la protagonista Sandy anche se poi nella parte finale del film tira fuori anche lei una versione molto più tosta di se stessa infatti anche John Travolta che faceva la parte di Danny Zuko quando la vede fa Sandy oh my god oh mio dio eccetera vabbè adesso non mi ricordo cosa disse esattamente però tutta in pelle eccetera con gli stivalozzi vabbè ragazzoli vi ho raccontato queste tre cosine spero che vi siano piaciute che vi possano interessare io sfrutto sempre i miei canali che vi ho detto per darmi queste dritte queste cose eccetera eccetera che vi possono anche interessare perché comunque sono curiosità aneddoti eccetera che magari uno si ferma a vedere il film a rivederci grazie eccetera ma ci sono anche le cose alle spalle dei vari film ci sono le storie degli attori che noi conosciamo e che poi puff puff spariscono e non se ne sa più nulla non se ne parla più e quindi magari c'è il gigione che ve li ricorda in ogni caso dai mi sono dilungato troppo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao